Ma guarda, è nato in sintonia con un'idea di vedere le isole come la possibilità di partire e tornare, quindi la possibilità dove esplorare degli aspetti del fare cinema che in qualche modo ci affascinavano. Frequentavamo queste isole e avevi la sensazione che avessero capito loro, i nostri padri, qualcosa di profondo, cioè portarsi via da Roma e stare in un posto isolato e ragionare su quello che poi poteva essere il cinema nazionale, era quel qualcosa di più che faceva appunto Gillo insieme a Franco Solinas, Franco Solinas con Losei, e quindi l'idea era proprio, quando se ne andò il Solinas, di continuare questa ricerca. Io avevo la mia isola del cuore perché da ragazzino io venivo in quest'isola perché era il primo viaggio all'estero che si faceva da Cagliari perché bisognava prendere una nave, arrivare qui, parlavano un'altra lingua, un'altra cucina, per cui era il primo viaggio che un diciassettenne faceva fuori da casa. E quindi io ho portato quello che a me naturalmente interessava, cioè il rapporto tra la musica e l'immagine perché nasco come musicista. fondamentalmente è quello, ho riportato a casa una cosa che avevo dentro. E questo è un miracolo delle isole perché cadono moltissime barriere, per cui non c'è un rapporto formale ma si è tutti abbastanza sullo stesso piano, questo è importante. Il fatto di aver iniziato e adesso consolidato questo rapporto del Festival con la parte formativa, e cioè il tentativo di rimettere insieme musicisti, registi, montatori del suono, tecnici, proprio a ricostruire una filiera quasi del suono. e quando il centro sperimentale ha voluto partecipare a questo progetto è stato veramente una cosa importante perché arrivare qui per questi ragazzi che vedono un regista e un musicista parlare di qualcosa che non si può dire a parole perché è una sensazione, la musica è sempre emozione, è sempre un linguaggio astratto, ma passare del tempo qua, vivere insieme, significa anche trovare il terreno fertile per poi poter lavorare lungo il corso dell'anno. Per cui in realtà qui è la partenza di un percorso che dura tutto un anno, dove loro si rivedono, i musicisti musicano i corti del centro sperimentale, poi li facciamo vedere qui l'ultimo giorno del Festival, il lavoro fatto in un anno, corti che sono già andati anche a tanti festival. E sono nate molte coppie di giovani cineasti con musicisti, per esempio il caso di Valerio Ferrara, il caso di Russotto, si sono incontrati qui, poi hanno fatto il corto di diploma insieme e poi hanno fatto il primo film. E quindi insomma è importante perché il rapporto tra regista e musicista è qualcosa che non si può molto raccontare a parole perché è fatto di fiducia, è fatto di sensibilità che si incontrano, ma non è un lavoro tecnico, è un lavoro emotivo, per cui devi trovarti bene e fidarti della persona a cui affidi la parte emozionale del film, che è la musica. E quest'anno un neo Carlo Portino, perché sarà neo Carlo Portino in tutti gli effetti, dialogherà con questi ragazzi, stiamo parlando di Mauro Pagani. Assolutamente. Per noi è stata una gioia che il comune abbia deciso di farlo cittadino di Carlo Porte, perché lui arriva come noi insieme a Di Andrè negli anni, nell'84, proprio qui a Carlo Porte, e poi ha un sacco di rapporti con gente di Carlo Porte, ritorna, è ritornato al nostro festival varie volte, perché oltre che essere un musicista, diciamo come lo conosciamo tutti, che è la storia un po' della musica italiana, è anche un autore di colonne sonore, basta ricordare tutto il lavoro con Salvatores, il lavoro con Scaparro, ha fatto musiche per tante cose, dalla Notte della Taranta a Sanremo, per cui è importante che lui in questo luogo ritrovi qualcosa di casa sua, nella lingua, nella sonorità e nel rumore in qualche modo del mare.